Nelle prime ore della mattinata odierna alla riapertura di una media struttura di vendita di località Mattina ad Agropoli, il personale della Polizia Municipale, coordinata dal Comandante Maggiore Sergio Cauceglia, ha effettuato una dettagliata ricognizione dei prodotti esposti per la vendita, rilevando che l'esposizione degli stessi avveniva senza accorgimenti restrittivi di prodotti non acclusi all'allegato numero 23 del DPCM del 3.11.2020, in violazione dell'articolo 3.4 del medesimo decreto. Il personale operante ha proceduto a contestare il fatto illecito al titolare della medesima struttura di vendita, procedendo alla contestuale completa interdizione dalla vendita al pubblico dei prodotti e allo Stato non commerciabili con diffida all'interessato a rispetto delle norme statali e regionali di riferimento in relazione a rischio di contagio da Covid-19. È stata emessa a carico del titolare della struttura la sanzione amministrativa prevista per legge pari a Euro 400. L'attività di controllo degli esercizi commerciali proseguirà anche nei prossimi giorni, anche con mirati servizi ad opera di agenti in borghese autorizzati dal comandante Cauceglia.